A pochissime ore dall'inizio dei nuovi campionati, il mercato dei dettanti è sempre più in fermento. In promozione, Baione e Grotte, che si citeranno per la prima di campionato nel prossimo weekend, continuano a battere i colpi. I Granata di mister Amarante piacciono l'attacchiante Maione, ex delle giovanili della Juve Stabia e Fanfulla, l'ex Bellizzi e città di Avellino, il difensore classe 2001 Emanuele Pagliocca e dall'Argentina arriva il puntero Sanabria, voluto fortemente dal duo sgambati Belfiore. A Montemiretto si balla il tango con l'esterno Detler e arriva una doppia conferma, quella del centrocampista Gennaro Saveriano e dell'esterno Basso Domenico Ceparano, due assoluti top player per la categoria. A Saveriano per mister Della Marra c'è l'attaccante ex Apice e Ariano Beppe Capodelupo, mentre per il Grotta il giovane Luca Iannaccone. Inoltre ha giurato fedeltà ai giallorossi di mister D'Alessandro e di patron Giovanni Uva, il fantasista Antonio Riccio.